Bella a tutti friends e benvenuti in un nuovo video! Prima di parlarvi di questa skin ci terrei a ringraziarvi a tutti voi che ieri siete stati con me in live Ci siamo divertiti insieme, abbiamo visto l'evento in live Molti di voi mi hanno scritto su Instagram tra i messaggi privati che vi siete divertiti, vi è piaciuta la live Io vi ringrazio, avete visto voi, c'è stata un'invasione, avete visto parte della mia famiglia Abbiamo parlato insieme in chat con un bel po' Perciò è stata una bella live, grazie veramente, auguri ancora E adesso spostiamoci in questa schermata perché questa è una skin che probabilmente uscirà più avanti Come vedete è una collaborazione tra Fortnite, le Big Games e KFC Per chi non conosce cos'è KFC, magari ha sentito parlare di McDonald's, Burger King Ecco KFC è la stessa cosa, si tratta sempre di ristorazioni fast food con cibo possiamo dire spazzatura Che è molto conosciuta, molto nota in America ma anche qui in Italia si sta espandendo So che non tutte le regioni italiane ce l'hanno quindi magari qualcuno non la conosce bene Diciamo che è famosa per il pollo e per le varie tipologie di pollo che servono Ma soprattutto come vedete la testa di questo personaggio ha un cestino E' famosa appunto per questo cestino dove vengono inserite dentro delle alette di pollo Io l'ho provata e devo dire che sono anche buone Comunque veniamo alla parte succulenta di questa informazione Perché come vedete molto probabilmente verrà rilasciata questa skin con questo piccone Il piccone già ci danno un'informazione di 1500 feedbacks Per la skin penso stiamo parlando intorno ai 2000 feedbacks Però sono andato sul sito di KFC Gaming o meglio sul profilo tweet di KFC Gaming E per vedere qualche informazione in più Infatti qui questo signore qua ci dice Sta uscendo davvero questa skin con questo piccone Il signor Philip dice no è solamente un concept cioè un'idea E poi proprio KFC Gaming risponde Philip ha ragione Quindi questa qui di questa immagine che vi faccio vedere Stiamo parlando di un concept Io poi sono andato a vedere i vari messaggi E guardate la gente è impazzita letteralmente per questa skin Ovviamente si parla la maggior parte di tutti i cittadini americani Perché in America è molto famosa Guardate io la prendo Prendi i miei soldi e sei zitto Poi c'è I want Io voglio questa skin Che taggono le big games Quindi è una Come sapete Fortnite sta dietro moltissimo alla community E qui ci sono moltissimi messaggi Che adorano, amano Questa skin è fantastica La compra al 100% Quindi probabilmente vedremo esattamente questa skin O magari rivista in qualche dettaglio Perché come vi ho fatto notare prima KFC Gaming ci sottolinea che è solamente un concept Un'idea Fatemi sapere qua sotto nei commenti Se questa skin esce con questo piccone E se voi la sciopperete Io non credo che il piccone uscirà proprio con le alette di pollo E con il cestino Però sicuramente vedremo qualcosa di simile in game Appena riesco a trovare qualche informazione più Ve la porto subito Perciò iscrivetevi e attivate la campanellina Un bel like per questa nuova skin O per questo concept di skin Che presto uscirà Noi ci vediamo in un nuovo video Che uscirà tra pochissimo Ah non vi ho detto Della ricompensa segreta Che mi aspettavo di trovare all'evento Perché era uscita una stringa Dove appunto c'era questa ricompensa segreta Che la Epic avrebbe fornito A chi partecipava all'evento a mezzanotte Noi ci siamo stati Abbiamo aspettato anche l'una di notte Ma non è successo nulla Ora alle 13 Quando uscirà l'ultima sfida Dei 14 giorni di Fortnite La vado subito a fare Vi porto subito il video Perciò seguitemi E vediamo Quale sarà questa ricompensa segreta Speriamo in qualcosa di buono Secondo me sarà un banner Tristissimo Signori Ci vediamo dopo Con altri nuovi video E le belle Mes amici